Ciao a tutti ragazzi e bentrovati su Crystal Tiros Gaming con una nuova puntata di Shadow Tactics, Blades of the Shogun. Allora gente, siamo un attimino bloccati qui perché effettivamente abbiamo un problemuccio con questa parte delle guardie. O meglio, qua abbiamo iniziato a liberare, non siamo affatto a un brutto punto, però qui abbiamo ancora delle difficoltà. Delle grosse difficoltà. Quindi, io direi che a questo punto la cosa migliore che possiamo fare è liberarci di due delle guardie che non avevo assolutamente visto l'ultima volta. Cioè, non è che non le avevo viste, non le avevo proprio considerate, non pensavo sarebbero state un problema, invece sì. Eh, bene. E il samurai mi vede. Mi vede proprio malamente. Ma è quello, mo? Ci mancava. Oh! Che palle! Te mi cambia. Nome di Dio. Ok. Rimani qua. Yuki? Tu sei qui, vero? Ritorna pure tu, va. Ok. Adesso. Accordiamoci un attimo. Ah, questo si vede, eh. Va bene, allora. Eliminiamo questo civile nella maniera più veloce possibile. Vai. L'amor di Dio. Veloce. Perfetto. 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 Ma proprio senza ritegno. Ok, c'è un momento in cui il samurai si gira da quella parte. Perfetto. Quindi, il momento è quando lui è qui. Che devo andare qua e distrarlo così. Poi, Yuki deve andare qui. E anche piuttosto velocemente perché non voglio perdermi l'attimo. Ma ti pare possibile che... Scusa un attimo, ma perché mi vede quello? Quello perché mi vede? Ma in che maniera mi... Ah, eh, sì. Già. Che bello, eh. Purtroppo... Vabbè, magari sono fortunato. Chi è che... Ma mi ha visto il civile? Non ci posso credere. Io odio i civili. Li odio proprio con tutto il mio cuore. Maledetti rompipalle. Guardalo. Sempre nel momento meno opportuno possibile in assoluto. Eccolo lì. In mezzo ai coglioni. Ma devo aspettare che sto cavolo di samurai si rifà tutto il giro. E così magari pure il civile se lo sarà rifatto tutto il giro. Un po' qua devo aspettare. Non posso fare altro. Ok Ok, via, via Svanire Portalo qua dietro, anzi portalo qui Andiamo un po' di chiudere sta storia A posto Uno e due sono andati Adesso c'è un piccolissimo problema Che non so proprio Un po' vedere una cosa Se per caso riesco a No, non ci arrivo Per un non nulla, veramente Ah, invece sì Ci arriva, ci arriva, ci arriva Ok Yuki, forse c'è la possibilità di eliminare davvero Quel cavolo di samurai Una volta per tutte Ok Allora Perfetto Unico problema è questa ronda qui Che non mi dà tanto Tanto margine di azione Purtroppo E anche questo samurai Va considerato Devo considerare Un milione di cose diverse Vabbè Io ci provo Sarà difficile Ma ci voglio provare Che cosa stai facendo Che cosa cavolo sta facendo Selezionato quella sbagliata Va Ok Ok Funzionato Didi Che cosa causano Anche Si Che cosa Mi Anche Un po' Che è successo Perché non Perché ha Ecco Vabbè No non ci posso credere Cioè non ci posso credere Il civile Il civile Un'altra volta Un'altra volta quel maledetto civile Era Era venuta perfetta Maledetto Civile fottuto Ma devo aspettare Un'altra volta il giro Non diti un po' tu conto Per questo civile Maledetto malefico Ok E' fatta Perfetto Benissimo Adesso Tutto il resto Sarà molto più facile Credo che Yuki Possa farcela da sola Uccidere Quel samurai Non è detto Però potrebbe Che è successo Cosa Perché Aspetta un attimo Aspetta 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 un secondo Oh oh Fermo lì Puoi passare la ronda Un po' Vedere se per caso Riesco a saltare Sì Che ce la faccio Va bene Aspettiamo che arrivi Aspetta un attimo Finalmente Finalmente mi sono liberato di questi maledetti samurai Adesso Aspettiamo la ronda Vai Benissimo Eiko Adesso scusa ma voglio togliermi un attimo Una soddisfazione Yuki Vieni qua No 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 Ma che cavolo Dove Vieni qua Civile di merda Maledettissimi Per la miseria guarda Ok A posto Non è che lo vedo No 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 Perfetto Adesso Penso Penso che sarà molto più facile Con Con lei Che potrà vestirsi Perché basta che vado qui Dai dai coraggio Coraggio Veloce Da qui Gliarati Esatto Uno e due Quattro 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 Perfetto Non è che Così li ho distratti Ottimo e ricominciano la loro La loro ronda Che figata Non la sapevo questa cosa Ok ottimo Adesso Takuma dovrebbe avere Quasi lo spazio Tutto libero per andare Se non altro quassù E sparare un colpo a sta guardia Sicuro Come faremo fare a te Da mangià? Non ci sta niente da mangià Psssss Ah Gaman già Sai che ti dico Vieni qua Distraiamo ste guardie Ma non c'ho manco voglia Di starci a pensare troppo Perfetto vai Perfetto Yuki Vaiato Vai Ah dai Non mi beccano Guarda un po' che ci sta di bello Due proiettili Ok Perfetto Hayato è qui dentro Yuki anche Takuma Sta lassù E Aiko Ha svolto egregiamente il suo compito Adesso Dai che c'è rimasto un altro po' di tempo Samurai qui è stato ucciso Qui tutti sono stati uccisi Dove cavolo sei scappata fuori Dai Corso un po' di rischi A fare questa cosa Senza manco guardare Vabbè Eh infatti erano quasi lì Allora Però stavolta voglio Hayato Perdonami Yuki Lo so sei la mia preferita Però stavolta portare i cadaveri Cioè sei Incredibilmente lenta Perciò Per la miseria Questo non l'avevo mica considerato Un gran che Vabbè Takuma Seccalo un po' Dicevamo Takuma Perché non riesce a seccarlo Non mi dire che non ci arrivi Non ci credo mai Oh no Ma davvero E niente E niente A posto Veloce Perfetto Takuma Adesso è libero Per andare fino alla torre Fino a questa torre qua No Non ci puoi andare Invece no Come non detto Come non detto Rimani qua Va bene Ora Resta Da capire come possiamo fare Qui Arrivando E tutti si muovono E questo Si mette qui E io Però posso anche Sgusciare qua E cambiarmi qui Giusto? Ce la potrei anche fare Effettivamente Anzi Sapete che Fermi tutti ragazzi Un attimo Salviamo E direi che lo facciamo Alla prossima puntata Madonna Ci sta volendo Veramente un sacco di tempo A fare Sta puntata qua Però Capite che insomma D'accordo Gente Direi che per oggi È tutto Sì Mi raccomando Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto E lasciate un bel Mi piace A questo video Se vi è piaciuto E se vi sta piacendo La serie D'accordo? Alla prossima